salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di the fratagame eccoci tornati in un nuovo episodio di god of war allora riprendiamo da qui dall'ultimo fabbro che abbiamo incontrato perché sono tornato un po indietro per raccattare un po di roba adesso sono tornato qua quindi possiamo proseguire allora diamo una bella occhiata qua intorno perché sembra che l'area sia molto estesa c'è parecchia vita qua intorno spero che su castronzo ehi fai bravo ole grandissimo merda chi è pia che sta accettata e testa di merda trepa grande ole grande merda chi è che sticata sta mossa merda grande oh cazzo quanti sono scusate ehi ehi capino fai calmo signorino merda merda non ci arriva andiamo su dei stai calmo ole perfetto urca oh allora vediamo un po che cosa c'è qua qua ci sono dei simboli che non so che cosa siano andiamo su di qua cazzo è stesa di brutto l'aria ecco qua già c'è un forziere ma si può colpire ah ok forse ho capito ma non ne sono sicuro eh perché no aspetta fatemi capire una cosa c'è la v girata così e lì invece girata così vediamo un po si ok allora è come avevo subito intuito perfetto allora bisogna trovare anche come cazzo ho messo però di qua e di là ok qua c'è qualcosa che stai qua pregando ma che cavolo fai vabbè qua si può spaccare ole poi qua sotto ce n'era un altro di quei cosi si che cos'è aladdini ok vorrebbe essere quello qua c'è qualcosa perfetto questo come lo fermo atreus dove vai che devo finire di accattare la zona qua ole vai che cos'è sono affari loro ragazzi un oggetto comune armatura a fianchi ah ah ma si possono trovare anche le armature allora nei bauli questa è una bella cosa più 5 la ricarica stighezzi ma questa è una buona cosa saperlo perfetto la rilascia e qua cosa cos'è ole poi di qua non si può salire ok allora c'è la b così vediamo se lo giriamo che cavolo è diventata deve essere la b no le punte al contrario vediamo se è vero perfetto a posto dovrebbe essere aperto il forziere in teoria allora mi sto facendo tutta questa zona di qua per un momento e poi mi faccio l'altra però magari le taglierò ragazzi un po' di parti perché so che alla gente non interessa lutare in giro a me invece piace un sacco uh 3 di 3 grande la rabbia massima hai raccolto 3 rabbia massima aumentata vediamo grandissimo buenos good very good ok sì perché ragazzi ogni volta che stoppo la registrazione io torno tutto indietro per vedere se ho dimenticato qualcosa no lo dico perché magari non voglio fare non voglio platinare niente non voglio fare il professore di sto cazzo è solo perché mi piace controllare tutto in giro specialmente i giochi nuovi allora qua c'è una monetazza che me la piglio qua si sale per andare dove da sopra però aspettate che qua ah qua c'è un forziere che manco avevo visto olè perfetto adesso un momento perché noi arriviamo da lì di qua cos'è sto a fare fate attenzione la sto ancora sistemando stupida carrucola dimmi cosa c'è che non va che ne so io se non lo sei tu o merda e il coso qua dov'è vediamo se lo si intravede di qua non c'è va giù come cazzo ci arrivo spacchiamo tutto noi vediamo se lo vediamo dall'altra parte se si può salire ma non credo eccolo là il bastardone ole lottina dormita treus che io tanto devo cercare in giro ole perfetto cosa c'è qua dimmi che c'è una mela no c'è acciaio e basta ok non si può toccare niente per aiutare il nano no direi di no va bene ottimo allora vediamo un po' su di qua che cosa c'è questo cazzo di veleno che palla ole ah qua però c'erano dei vasetti ole dammi qua sicuramente mi sono dimenticato qualcosa ma azz cazzo c'è qualcosa qua come cazzo faccio ad aprirlo sto baur qua c'è un nano cazzo è successo ah puttana quanta vita mi ha tolto ah non posso neanche aprirlo oh no mamma lo chiamava rovo di el non si buca lì come cazzo si fa quindi puttana quanta vita mi ha tolto ma sta cosa si può spaccare utilizziamo la massima potenza ole sto cazzo boh e niente allora qua non possiamo andare per il momento eh fatemi recuperare allora di qua sono arrivato ok ecco già questo me l'ero dimenticato ok ma prima era pieno di vita adesso non c'è neanche più una come cazzo è sta cosa vabbè qua sono già stato allora saliamo non capisco ci avviciniamo alla montagna esatto ok perfetto ok merda una fottuta strega allora mi sembra che è andato di là quindi noi ci facciamo i cazzi nostri per il momento e ce ne andiamo di qua tanta roba corvi di odino non ne vedo mica ma sono tutte bloccate scusate ma cazzo è che sta zonetta bloccata possibile che bisogna tornare proprio tutto indietro davvero vabbè ok allora quello si può però aprire perché qua c'è questo ottimo vai apri oh grande oggetto comune però peccato che c'ho quelli un po' più cazzuti 4 e 5 ma guardate come mi abbassano le statistiche sarebbe da pazzi anche perché ho sbloccato questi quindi direi no ottimo ok attenti pronto è a 3 uti ma qua ci saranno danni ole allora parola eccola la puttana ole ole oh stronza aspetta che ti spacco in due ole vai così grandissimo che figata e crepa stronza ole perfetto allora minchia ragazzi quante strade di qua si prosegue o sarà un vicolo cieco bella domanda di cosa pam ok allora di qua dove si va dove si va mi sa che si prosegue di qua allora andiamo a vedere un attimo di lava si esce un gazzo oh ok allora questo cos'è poi oltretutto non saprei proprio dunque qua mille mila strade ci sono cazzo possibile che ah grande vicolo sceco questa non si può aprire perfetto ok 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 allora la strada sembra essere questa ma poi tanto dovrò tornare indietro perchè sicuramente si sbloccano le cose tutti quei cazzo di forzieri lì grande vai magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io non penso lei era più importante nel senso che ho passato più tempo io tu eri sempre a cazzo ti conviene chiudere la bocca olé olé perfetto lo schiappa da solo ottimo iniziamo a sacpeggiare la vita non mi serve per il momento quello lo posso scoppiare ok un sacco di vita un sacco di vita guarda quello grande grandissimo a questo punto abbiamo fatto 30 facciamo 31 ok allora baulozzo vai vediamo che c'è di bello dimmi che c'è una mela cazzo spallacci arcani oggetto comune armatura busto ok vediamo un po' mi abbassa troppo la di peccato perchè aumenta la ricarica di parecchio però mi abbassa troppo la statistiche vabbè di 4 non è neanche tantissimo vabbè teniamole lì non si sa mai e qua come cazzo faccio ah ok tutto per sapere se no ottimo oh vediamo cosa c'è di bello qua dentro carica dell'orso bianco attacco runico leggero un rapido scatto offensivo seguito da un attacco kratos è invulnerabile durante lo scatto ah ok 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 so no preferisco tenere l'altro quello è congelato lì adesso quello mi sta sui coglioni lo faccio esplodere perfetto diciamo anche 32 vabbè se prendersi sicuro mi piglio una ricarica e proseguiamo a questo e sti cazzo puttana troia marda marda occhio grande occhio questo scimmione è pastato chi è pietista legnata oh cosa ha visto quest'altro merda 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 ottimo cazzo ole cazzo quella merda che legnata fio di puttana ole vai oh bastardo però cazzo devo dare le lineate che le voglio dare anch'io ole grande ole vai non c'è andato no 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 nasce di merda va vaffanculo stonzo ole merda vale fanculo ole grande kratos dove cazzo è scusato eh ma quanti sono va fanculo va ole eh abbiamo aumentato di parecchio le nostre statistiche grande kratos abbiamo fatto bene a lutare piano piano allora vediamo un po' questo cos'è oggetto raro incantesimo forse ero unico di ero unico di tre ok poi acciaio e questo oggetto leggendario la furia del fuoco del ghiaccio si usa per potenziare leviatano perfetto grande ok poi quando andrò in pausa controllerò tutto adesso si può proseguire ma tanto come me è rimasto fermo lì no ok base della montagna che figata ok ragazzi io direi che allora l'episodio lo faccio stoppare qua dato che abbiamo scoperto un nuovo luogo possiamo proseguire la prossima volta così il video non è tanto lungo io non dovrò fare tanti tagli e siamo tutti contenti quindi ragazzi vi ringrazio per avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete già fatto per supportare me e supportare le serie vi ricordo anche di seguirmi sui social che troverete sempre il link sotto nella descrizione detto questo ragazzi io vi ringrazio mi raccomando lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto al prossimo episodio di God of War ciao ragazzi un bacione e un abbraccio da The Fratagame e un abbraccio da The Fratagame grazie a tutti